Oh, finalmente io e Alissa ci siamo decise a fare un bello scatolone per Baby Bazaar da portare un po' di giocattoli che Alissa non usa più così potranno far felici qualche altro bambino, no? Sì Ok, sei pronta? Sì Hai scelto qualcosa? Sì Ok, vediamo che cosa hai scelto Ho scelto il puzzle di Peppa Pig di quando ero piccola Ok Questo sono sicura che piacerà a qualche bambino perché tu ci hai giocato tanto Eh sì E poi? Questo libretto Carino, questo te lo leggevo sempre la sera E poi? Non lo so Dai, pensaci un po', sei piena di giochi? Qualche gioco che non usi più? Aspetta Le Cray Babies? Sì Eh, ne hai tre Lei che ha anche il gioccio portatile Ok Questa è bella Eh sì Io però mi tengo il cagnolino Va bene, il cagnolino lo teniamo E anche la tigrotta allora? Sì Va bene Aspetta Non aveva anche la corona? No, no, no E poi prendi il computer, eh Ok, la nostra scatola si sta riempendo C'è qualcos'altro che vuoi mettere? Sì Vediamo Che cosa c'è lì? Oh Il computerino? Sì È da piccoli Eh sì, questo è da piccoli Per me vedo se c'è qualcos'altro Qua non c'è niente Questo posso vendere Ok Va bene carina Sì Però ce n'è già tante Ok Abbiamo riempito lo scatolone Adesso siamo pronte Glielo portiamo E speriamo di riuscire a vendere qualcosa Sì